Un passaggio adesso a... in realtà ci spostiamo di poco a Roma, dall'euro andiamo alla zona della piramide. C'è Laura Ceccherini che è una delle nostre inviate sul campo per monitorare quelle che sono almeno le due manifestazioni in programma nel pomeriggio, una delle quali di stampo forse più ambientalista possiamo dire partirà proprio da lì. C'è ancora tempo perché la previsione di partenza è per le 15. Che situazione c'è Laura? Possiamo essere rassicurati sulla giornata di oggi? Ciao Roberto, al momento sicuramente sì, dal momento che la manifestazione come ricordavi da studio, quella che si svolgerà qui a piramide, inizierà per le 15. Quindi prima delle 14 i ragazzi di Friday for Future, ma non solo, non sono previsti. Naturalmente qui intorno la situazione viene controllata e monitorata, potete sentire anche mentre vi sto parlando diverse sirene, polizia, carabinieri, ma non solo, siamo qui da circa un'ora, ci sono diversi elicotteri che sorvolano la zona, insomma tutto improntato alla sicurezza. La manifestazione, lo dicevamo, lo ricordavate anche voi, partirà da qui, da piramide alle 15, poi si snoderà alle mie spalle in quella che è via Marmorata, fino ad arrivare a Bocca della Verità. Dicevamo sarà piuttosto eterogenea perché ci saranno i ragazzi di Friday for Future, e poi ci saranno i Cobas, i lavoratori di Alitalia, i lavoratori di Whirlpool, di GKN, insomma un gruppo piuttosto nutrito, più in chiave ambientalista, come ricordavi giustamente da studio, ed è proprio in questa chiave, ed è proprio il gruppo probabilmente più numeroso, quello che si è ritrovato all'ex cinodromo, hanno dormito lì, sono arrivati con pullman non solo dall'Italia, sono arrivati anche dall'estero, quindi numerosi pullman si prevede, è una manifestazione molto partecipata, addirittura si dà una forchetta naturalmente ampia tra i 5 e i 10 mila che sfileranno, scusate, per la città fino ad arrivare a Bocca della Verità. Noi oggi vi parleremo da punti diversi, abbiamo voluto partire da qui proprio per farvi vedere da dove inizierà la manifestazione, alle mie spalle piramide e poi piano piano vi faremo vedere i punti diversi e naturalmente vi chiariremo, chiariremo, vi mostreremo quale sarà la situazione anche e soprattutto in tema sicurezza.